È iniziata questa mattina con l'omaggio al monumento dell'Alpino in piazzale Vaccarelli la tre giorni di raduno delle penne nere ricordando il battaglione Alpini-L'Aquila organizzato dalla prima e seconda zona della sezione Abruzzi dell'Ana. Una tre giorni intensa che prevede oltre alla sfilata anche vari momenti di approfondimento e musica con i cori la sera. Si è già la sesta edizione dell'iniziativa che porta in città tante penne nere, molte provenienti da fuori l'Aquila. Tre giorni per ricordare il glorioso battaglione, rinsaldare il legame con la città ma soprattutto per diffondere i valori della cultura alpina nelle giovani generazioni. Ottant'anni della campagna di Russia come anniversario ma anche il saluto agli alpini del non reggimento appena tornati dalla missione in Kosovo. Tanti momenti previsti in questi giorni anche nella giornata di sabato a chiusura ci saranno vari eventi compresa la sfilata la mattina con la maila bandiera previsto intorno alle 18 con l'appuntamento al prossimo anno. Oggi inizia la tre giorni dedicata al raduno del battaglione Alpini l'Aquila che è già la sesta edizione. Ci auguriamo che continui ad andare avanti anche negli anni prossimi, poi si vedrà se dedicargli ancora tre giorni o due perché la manifestazione è lunga e anche impegnativa e quindi questa è una cosa che si vedrà dopo però continueremo nei prossimi anni a tenere in piedi questa tradizione e tradizione degli alpini, della cultura soprattutto degli alpini e del modo di quello che è stato e di quello che è e della vita degli alpini in mezzo alla società. Il legame tra gli alpini in armi e gli alpini in servizio esiste però in tutta Italia, non solo all'Aquila, forse all'Aquila esisterà particolarmente perché questa è stata sede di un battaglione addestramento reclute che ha visto migliaia di alpini provenienti da altre regioni qui per alcuni decenni per cui l'Aquila è conosciuta in mezzo a Italia proprio per questa caserma. Poi il legame particolare esiste anche perché c'è stato il terremoto e abbiamo visto qual è stato l'intervento del contributore degli alpini però dovunque ci sono alpini in servizio e alpini in armi il legame è sempre molto forte perché il legame con loro in passato è iniziato durante il servizio militare e è rimasto indissolubile per tutta la vita. Lo vediamo tuttora.